L'assessore che fa acqua da tutte le parti, un altro disastro, firmato Tonelli. Con questa affermazione la Lega Fano torna all'attacco sui lavori della vasca di raccolta dell'acqua piovana in piazza Lamedola. Due anni di ritardo, ricorda la Lega, coste aumentate del 44% e il sottopasso del Lido è allagato per l'ennesima volta. Il problema di quel progetto è che è nato male e che sta finendo praticamente peggio. Pensate che ad oggi, dopo circa mille giorni di lavoro per realizzare una vasca per il rilancio dell'acqua e circa dopo 700 giorni di ritardo sulla consegna dei lavori, oggi ci accorgiamo per l'ennesima volta che l'amministrazione comunale e l'assessorato ai lavori pubblici si è dimenticato di chiedere all'Enel l'allaccio per il funzionamento delle pompe. Sappiamo bene che abbiamo bisogno di energia elettrica per far muovere delle pompe di sollevamento acqua e questo ritardo ha causato quello che abbiamo visto poi succedere ieri sera, come è successo tante altre volte, perché l'impianto ancora non è in funzione. Ed ora presenterete un'interrogazione in Consiglio Comunale? Sì, domani mattina verrà protocollata una interrogazione per chiedere all'assessore Tonelli quali saranno i veri tempi di allaccio di quell'impianto per fare in modo che tutto il sistema funzioni. Non è possibile che nel 2021 un impianto del genere ancora non sia realizzato e che il sottopasso del Lido continui ad allagarsi ad ogni acquazione stagionale. Quindi chiederemo quando verrà realizzata la cabina elettrica che permetterà il suo funzionamento e finalmente chiederemo anche a lei i motivi per i quali questo non è stato fatto prima.